ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video sto facendo il refill sulle mie unghie come prima se vi ricordate l'avevo nere qui sto facendo il french con ce l'ho fatto già con questo colore bronzo flash dei colori nuovi che ho fatto vedere su passione unghie che ho acquistato ho fatto già la bombatura ma ancora c'è da limare e insomma siccome una ragazza mi ha chiesto un video insomma parte già ci avevo pensato anche io sul creamy builder così vi dico anche come mi ci trovo eccetera eccetera come l'animatura la stesura il bruciore tutto quanto quindi iniziamo subito e adesso sto usando anche questo pennellino nuovo di passione unghie questo qui per il base è una bomba questo pennellino anche con verso le cuticole laterali ce la faccio benissimo ad arrivare e mi piace e niente adesso prendo il pollice e vi faccio prendiamo una bella pallina di già questo qui è ricostruita con olimpia comunque l'allungamento fatto con olimpia 2 prendiamo una bella pallina di gel di creamy builder siccome la ragazza mi ha chiesto di fargli questo video insomma per vedere come era anche il creamy build eccetera eccetera allora adesso lo applico col centro dell'unghia andiamo a creare la nostra bombatura dopo a fine video quando ho fatto tutto vi dirò ho fatto tutto solo il pollice ovviamente con il creamy builder vi dirò come mi ci sono trovata mi ci sono trovata qua, adesso la bombatura l'ho fatta, adesso vado a sgrassare la punghia, eccola qua, adesso tanto comunque un po' sbudellata normale, allora adesso andiamo a limare, prendo solo un pezzetto perché sinceramente sono anche scomoda con il telefono, vi faccio vedere un po', questo qui è il creamy builder dopo averlo limato, mi è uscito fuori una bolla qui e non mi ero resa conto prima, infatti avevano detto che il creamy builder ci poteva essere insomma le bolle infatti, ma non me ne sono accorta, vedete eccola qua, adesso li mando, mi sono accorta che c'era la bollicina qui, vabbè sperando che dopo con il colore insomma non si noti più di tanto, ecco qua, questa è la bombatura, non si riesce a percepirla tanto, forse quindi lo scuro, eccola qua, questa è la bombatura, allora che dire di questo gel, scusate se l'animatura ve l'ho fatta vedere poca, ma non ce la facevo con il cavalletto davanti, allora che dire di questo gel, direi che è fantastico, mi piace veramente tanto, allora quello che ho sentito dire è che brucia tantissimo in lampada, che è un po' complicato a stenderlo perché è tanto duro, io invece vi devo dire tutto al contrario, nel senso che comunque io, infatti da quando io ho visto le recensioni che dicevano che questo prodotto praticamente dice che bruciava tantissimo in lampada, mi hanno fatto venire il terrore, dico adesso sentirai, appena metto il dito in lampada, ho fatto anche il mignolo, ho fatto anche il mignolo, eccolo qua, questa bombatura, allora il mignolo sinceramente un pochino mi ha bruciato, ma poco, ma proprio una cosa lieve, ma il pollice ragazze, io non ho sentito solutissimamente niente, non mi ha bruciato niente, niente, sapete cosa vuol dire niente, niente, come avevo detto che bruciava tantissimo in lampada, boh, dopo dipende una anche l'unghia come le ha, sarà tanto deboli o meno, non lo so se dipende anche da quello, ma sinceramente a me non mi ha bruciato per niente il pollice, il mignolo leggermente, ma proprio poco poco, una cosa sopportabile, devo dire che mi hanno detto che è da lavorare molto duro, io invece me ci sono trovata, cioè benissimo anche ad applicarlo sinceramente, non ho fatto così tanta fatica, non mi pare ne manco così tanto duro, e vabbè per il colore alla fine, uno ci mette un colore sopra, alla fine come colore ne manco brutto, cioè alla fine, sì, va un po' su giallino, ma comunque non è ne manco tutto sto male, niente, io direi che io Creamy Builder lo consiglio, è la prima volta che lo uso, e ho voluto fare questo video, sia che ci avevo pensato già da per me di farvi, tanti dovevo farmi refill, quindi lo volevo provare insieme a voi questo, in più anche perché me l'ha detto già una ragazza che voleva vedere il video del Creamy Builder, io comunque vi dico, non mi ha bruciato niente il pollice, non ha sostituito niente, solo il mignolo un pochino, io dico come me ci sono trovata io, poi le altre non lo so, a stenderlo me ci sono trovata che è una meraviglia, non ho fatto nessuna fatica, non mi è parso ne manco così tanto duro sinceramente, non mi ha bruciato per niente, e si lima che è una meraviglia, è modellabile tantissimo, cioè nel senso è proprio morbido da limare, si lima benissimo, e io niente, io vi saluto qua, non vi faccio vedere unghie finite, era solo per farvi vedere insomma una recensione, diciamo tra virgolette di questo Creamy Builder, come mi ci sono trovata io, dato che vi ho detto che vi dicevo come mi ci ero trovata appena lo provavo, appena lo testavo, se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, sotto nei commenti, se volete scrivere qualche vostra opinione del Creamy Builder scrivete pure, e niente, con questo vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video, così sul prossimo video vi farò vedere le unghie finite, ciao! Ciao!